Grazie a tutti hai mangiato la mia tavola e la nonna ti ha preparato i cannoni ma l'amore è uno strano ugello che è impossibile ingabbiata tra tranghindrighi trigghi tringhindrighi sono un pochettino preoccupato perché mi devo andare a presentare per un posto e non so se avete notato io ho un piccolo difetto dove? nello sguardo ah e non ci avevo fatto caso se il pavimento c'è ora mi sento solo maledettamente solo è così gente brutta ne ha conto della loro coscienza lo sa che è brutta e questa è la più grande vittà dei nostri tempi ma gente è riuscita a fare moda della propria bruttezza ma gente è riuscita a fare moda